per questo nuovo video oggi mi mostrerò come installare la musica gratis allora prima di tutto ci serviranno queste due applicazioni allora prima di tutto dovremmo andare su aptoid e cercare snap tube ed eccolo qua vabbè voi lo installerete una volta fatto tutto ciò basta che lo aprite ma si caricherà dovete aspettare solo un secondo vabbè perché ci vedete sulla hit poi voi andrete tipo a cercare qua una canzone ma io faccio caso tipo despacito vediamo un po ok voci schiaccerete sopra e poi dovrete andare su questa con la fraccetta rossa e se la vorrei se la vorrete proprio bella che si veda proprio benissimo andate su questo che vi sottolineo ok una volta schiacciato si caricherà molto lentamente vero quindi ci vediamo quando sarà pronto ok una volta installato basta che andate su questo qua che vi sto iniziando questo uno poi si schiaccerete e vi porterà qua e guardate un po' qua che cosa avremo poi basta che ci schiacciate schiacciate play vabbè schiacciate play vabbè schiacciamo qua si va bene ed ecco guardate e questo qua va pure senza internet quindi potrete ascoltarla quando vi pare ok quindi spero che questo video vi abbia piaciuto se non ci stessi iscrivetevi e quindi ci salutiamo ciao ciao